Si parla tanto dei sintomi più comuni menopausa, quali le vampate di calore, gli sbalzi di umore, la secchezza della pelle e delle mucose, il calo del desiderio, ma si parla poco dei sintomi meno comuni, quali l'indebolimento dei capelli. L'indebolimento dei capelli è infatti una delle conseguenze meno note del calo di estrogeni che si verifica in questo periodo della nostra vita. In particolare la riduzione di questi ormoni nel nostro organismo provoca un improvviso aumento degli ormoni androgeni, che sono i responsabili del naturale ciclo del capello. Cambiamento ormonale può far sì che chi ha sempre avuto i capelli lisci se li ritrovi ricci, che i capelli crescano di meno, che perdano volume, luminosità, compattezza. Si dice che gli occhi siano l'ospetto dell'anima, ma per me lo sono sempre stati i capelli. Ho sempre avuto i capelli ricci e da bambina, quando diventavo non c'è spuglio, mia madre mi portava dal parrucchiere a farmi li tagliare. Per me era un evento traumatico, perché me li tagliavano la maschietta, come si diceva allora, e mi sentivo come se mi avessero strappato una parte di me. I capelli infatti racchiudono una miriade di significati, rappresentano la forza, ti ricordi l'episodio biblico di Samson, la saggezza quando diventano bianchi, legame con gli altri, con se stesse, con l'universo. Sono l'estensione del nostro sistema nervoso e come antenne ricevono e trasmettono una grande quantità di informazioni al tronco cerebrale, al sistema limbico e alla neocortezza. Rappresentano il nostro modo di essere, spesso un taglio di capelli simboleggia una svolta esistenziale, un vero e proprio cambiamento interiore. Tenereli puliti in ordine è un atto di amore verso noi stessi. Quindi cosa fare per prenderci cura dei nostri capelli quando ci avviciniamo alla soglia o stiamo già attraversando la menopalga? Li lasciamo crescere, li manteniamo lunghi o li tagliamo? Alcune donne ritengono che il cappello corto sia più pratico, altre invece dicono la stessa cosa del cappello lungo. Alcuni stilisti sostengono che il taglio di capelli ingiovanisca e lo paragonano a un lifting facciale, altri invece sostengono che il capello lungo dia un aspetto più giovanile. Al di là del fattore estetico e pratico che è molto soggettivo, dal punto di vista energetico è meglio tenerli lunghi, raccogliendoli magari in una coda oppure accorciandoli alle spalle con una bella frangia per far passare in secondo piano le prime ruve sulla frangia. Per mantenerli in salute è meglio non lavarli tutti i giorni e per evitare la naturale disidratazione dovuta la predominanza degli elementi aria ed etere che caratterizza questa fase della nostra vita. Fai dei belli impatti con l'olio di cocco prima di lavare, lasciandolo anche sui capelli tutta notte, evita il più possibile l'uso della piastra e adotta ovviamente uno stile di vita adeguato. Mangia tanta frutta e verdura, consuma grassi salutari come il ghi, bevi molta acqua, soprattutto acqua bollita e riduce il consumo di caffè e alcolici. È noto che lo stress aumenta lo squilibrio ormonale e quindi trova sempre lo spazio da dedicare alla meditazione e al contatto con la natura per contrastare gli effetti negativi degli sbalzi ormonali. Lascia un commento qui sotto e se non l'hai ancora fatto iscriviti anche tu a Passone Yoga per diventare parte insieme ad altre migliaia di persone di questa straordinaria comunità. Così facendo riceverai ogni settimana dei contenuti gratuiti ed esclusivi. Ci vediamo nei prossimi video. Namaste.